Animal Sport 15.13 Animal Sport con voi su Radio Milan Inter per parlare di tutto quello che è successo nel mondo Animal dello sport ovvero quei 5 personaggi che hanno fatto chiacchierare di più Animal Top 5 Posizione numero 5 Joey Barton E' impazzito Dopo aver insultato Ibra se l'è presa appunto con Neymar Dandogli del biber del calcio, della pipì di gatto Adesso tocca a Tiago Silva Due domande per Tiago Silva Ti sei operato o no? Perché per me è sempre un transessuale Io adesso veramente andiamo per favore a Marsiglia Io voglio intervistarlo e chiedergli che problema hai? Ovviamente è chiamato per farmi gli auguri Grazie Secondo te è possibile una rimonta dei bianconeri? Si mandano a tagliavento come abito Possibile direi Però se mandano a Napoli trova abbastanza serio Credo che siamo nel paese delle favole No ma tu guarda sti cavolo di milanisti Che non sono capaci di comprare i giocatori da un'altra parte Ma è Giulio Cesar che si è proposto al Milan Quindi francamente Voglio le prove? No 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 voglio le prove Vabbè Vedere Murillo allenatore del Milan Giuro ragazzi io muoio Muoio Ma no ma non l'hai in sparo Lo ammazzo io in sparo Ma niente Ma niente vado in galera Ma là non ci può andare La classifica Anima Sport ha stilato la classifica dei 10 calciatori più brutti della serie A Ezekiel Schelotto La versione Nintendo 64 di Mauro Camoranesi Stesso tipo di giocatore Pizzetto simile Più rapido ma anche più giovane e grezzo E con più pixel da mettere sulla faccia Chiamato all'evriero perché corre e somiglia a un cane Ha più nazionalità che like su Facebook alle foto dei suoi primi piani Va bene Chiara è arrivato il tuo ultimo momento Per dimostrare che sei una vera conoscitrice dello sport Sei ormai qui da 3-4 puntate Allenatore del Napoli Guarda sto imparando questo attore che Un attore? No no cioè l'unico nome che sto imparando di allenatore È quello dell'Inter che mi chiama Scaramacci 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 Guardare la faccia di Fabio Che perde la pazienza ma rimane comunque composto Non ha prezzo Qui su Radio Milano Inter 96.1 Animal Sport Che perde la pazienza ma rimane comunque Che perde la pazienza ma rimane comunque Che perde la pazienza ma rimane comunque Che perde la pazienza ma rimane comunque